E' un buono candidato al Consiglio Comunale di Pozzolo, una campagna elettorale molto soft, cosa sta succedendo? Secondo me è soft questa campagna elettorale perché c'è un'assenza di proposte concrete e di alternative alla candidatura del sindaco Figliolia. Queste proposte invece che voi mettete in campo possono essere anche definite a qualcuno demagogiche? Proposte demagogiche non credo perché parlano i fatti, i fatti dicono che questa città è cambiata, che tante cose sono state fatte e tante altre restano da fare, bisogna affrontare con questa consideratura il definitivo rilancio del territorio. Soprattutto chi si lamenta negli ultimi 5 anni di amministrazione forse sono le periferie che sono state un po' dimenticate? Assolutamente sì, il tema delle periferie è un tema centrale, il tema della prospettiva, della sicurezza delle abitazioni a Monteruscello è un tema fondamentale, il tema della realizzazione anche nelle periferie di luoghi di aggregazione sociale, culturale, di punti che non siano solo dormitori ma veri e propri contenitori. C'è tanta programmazione è stata fatta, tanto verrà realizzato, tanto resta da fare anche lì.